Tutto è provvisorio in questo universo. Non è che è importante l'esistenza di una canzone, che cosa vuoi che sia. È importante nel momento in cui influenza qualcuno a diventare un essere più degno. Entrano in uno stadio e c'erano circa 15.000 persone. Da un momento all'altro nel settanto ho avuto una crisi molto forte. Noi esseri umani non siamo all'altezza del ruolo che ci avrebbe segnato il cosmo. I porti rossi, soprattutto il silenzio e la pazienza. Ero legato a un altro genere di esistenza, anche se la musica è stata la mia vita. La linea orizzontale ci spingi verso la materia E la vertica verso lo spirito Inere sauge Lassi neri auguri